In seno all'Udcimi che le termini un importante incarico per redigere una nuova legge antimafia. Sì, io innanzitutto devo ringraziare il senatore Dalia per la fiducia che ha riposto in me su questo incarico. Questo è un momento un po' particolare perché nel nostro partito si sente forte l'esigenza di parlare di antimafia, ma non antimafia dei professionisti dell'antimafia, ma bensì di un'antimafia del fare, cioè capire questi beni che vengono confiscati alla mafia, dove vanno a finire, come vengono utilizzati e ci sono molte ricerche in tal senso dove si dice che di fatto questi beni poi alla fine vengono assegnati ma vengono abbandonati. Quindi il tema è utilizzare i beni confiscati e come vengono utilizzati. Su questo l'Udc ci vuole vedere chiaro e vuole capire anche con una proposta di legge e una raccolta di firme che faremo in tutta la regione siciliana di capire come è meglio sfruttare questi patrimoni ingenti che possono dare anche delle risposte nei territori, che possono dare anche delle risposte agli enti locali. Io faccio un esempio, qua a Campobello noi abbiamo avuto dei beni confiscati dalla mafia e poi per certi versi abbiamo avuto difficoltà come vengono assegnate al comune, come il comune le deve gestire, come il comune le deve far fruttare, perché ci sono delle interi aziende, ci sono dei interi immobili, ci sono dei capitali, su questo non si può scherzare e non si può dare buon gioco alle attività criminali dicendo che vengono lasciate all'incuria o all'inerzia o all'abbandono. Quindi su questo bisogna lavorare, su questo stiamo lavorando e su questo ci confronteremo con gli avvocati, i magistrati, l'università, perché di fatto anche a livello universitario si sta facendo uno studio in tal senso. Su queste tematiche l'Udc vuole dire la propria parola, vuole dire in modo chiaro e forte che di fatto l'antimafia si compatte, la mafia si compatte in modo serio, in modo da fare utilizzare questi beni, in modo che questi beni vengano riportati di nuovo nel circuito sano e virtuoso della legalità. Gli enti locali da soli non bastano insomma? No, gli enti locali da soli non bastano, non bastano neanche tutti, dobbiamo metterci insieme. La legge ormai è stata sperimentata e quindi in questi anni abbiamo visto che ci sono delle storture, queste si possono correggere in modo tale che si possa fare un'azione più efficace nei confronti della mafia. Su questo il senatore Dalia, tenuto conto anche della mia esperienza di amministratore locale, ha voluto puntare per fare in modo che bisogna passare una parte oltre la confisca. Dopo la confisca cosa succede? Questi beni che fine fanno?